Una storia d'amore diventata un incubo, tanto da portare l'amante, arriverà al marito della sua amata il suo presunto tradimento e chiedere del denaro per il suo silenzio. Accade ad Ugento, dove un 34enne è stato condannato dal GUP Angelo Zizzari a due anni e quattro mesi di reclusione e al pagamento di una provisionale di 10.000 euro in favore della parte offesa, una donna di 56 anni. In seguito a una relazione extraconiugale andata avanti per circa due anni, una volta lasciato, il 34enne avrebbe iniziato a perseguitare la donna e avrebbe contattato il marito della 56enne per raccontare dettagli della loro relazione. In più occasione poi avrebbe effettuato chiamate sia alla donna che al marito e ancora, nel corso di una telefonata al marito, con fare minaccioso, gli avrebbe prospettato l'intenzione di inviargli messaggi che la moglie avrebbe scambiato con un altro uomo. Tutti gli episodi risalgono a metà agosto dello scorso anno. Il 34enne, difeso dall'avvocato Martino Carluccio, è stato giudicato col rito abbreviato. La donna, costituitasi parte civile, è stata assistita dall'avvocato Monica Pezzulla.